E proprio l'integrità del territorio di Ferriere ci ha consentito di accogliere l'ambizioso progetto di un osservatorio astronomico didattico, unico nel suo genere in Italia, da installare sulla vetta del Monte Bue. In quest'area infatti si gode di una visuale a 360 gradi, essendo il Monte Bue una delle vette più alte della zona, per cui ben si presta alla realizzazione dell'osservatorio. Inoltre tale scelta è suffragata anche dal rapporto Istil 2001, che lo considera un sito ottimale per la qualità del cielo e l'inconsistente inquinamento luminoso dell'area.